La quarta giornata dell'inviato del Duce in Spagna. Il Conte Ciano accompagnato dal ministro della difesa nazionale generale Davila, dall'ammiraglio Somigli e dal generale Gambara in viaggio sull'incrociatore della nazione ospitale che si intitola l'ammiraglio Cervera e che fila alla velocità di 30 miglia orarie verso Santander. Ecco, nell'ampia baia, la città vinta e liberata dai legionari che ha mandato incontro all'ospite le principali autorità cittadine. Santander rinnova il quadro trionfale delle accoglienze di Barcellona, Vittoria, San Sebastiano e l'automobile del ministro degli esteri dell'Italia fascista avviata verso la zona di guerra, teatro dell'eroismo legionario, attraversa cittadine, bordi e paesi tra ali di autentico popolo e di forze giovanili della nuova Spagna che affomunano i nomi del caudiglio, del Duce e del suo rappresentante in un solo grido di ammirazione, di riconoscenza e di fede. Passando tra questo popolo inequivocabilmente grato il Conte Ciano raggiunge il cimitero di Entrambas Vestas dove compie la prima sosta devota del suo pellegrinaggio sulla terra bagnata dal sangue legionario. Sono poche le salme nel piccolo recinto ma sul posto era soltanto un pugno di eroi che si buttavano all'assalto con centuplicato valore. La seconda sosta è sul passo dell'Escudo roccaforte della resistenza rossa fra le montagne di Santander dove la pietà e la riconoscenza della Spagna ha già quasi ultimato un tempio saglio per i legionari di Roma caduti in una delle più belle e travolgenti battaglie di tutta la guerra attualmente sepolti nel cimitero della sottostante piana di Corconte verso il quale si avvia il ministro inseguito dal festoso saluto delle donne della vecchia Castiglia pittoresche nei loro costumi delle camicie nere della zona e di tutto il popolo della montagna. All'ingresso del Camposanto sono schierate le organizzazioni fasciste del nord della Spagna a cui si saldano senza interruzione ideale i reparti dell'esercito nazionale e le falange. Dinanzi alla croce che domina altissima le umili tombe gloriose la benedizione del cappellano militare e l'appello fascista del Conte Ciano consacrano l'immortalità degli eroi caduti per la causa della civiltà che da Cristo e da Roma prende nome. La cerimonia si ripete nel piccolo cimitero di Espinosa dove riposano gli aviatori spagnoli caduti in questa zona e anche qui come in tutto il pellegrinaggio ai Sacrari della Gloria sono a bianco al Conte Ciano il ministro della difesa nazionale generale Davila il governatore di Santander Marchese di Aliseda il generale Gambara il leggendario colonnello Iague il comandante della quinta divisione di Navarra generale Pinto e numerosi altri valorosi capi della comune Vittoria il credito plode stasera maggio spagnolo ì spagnolo spagnolo